Una sosta che serve per ricaricare le batterie, ma che non può portare ad un abbassamento dell'attenzione e dell'energia. L'Orlandina Basket lascia la Sicilia per tre giorni e approda in un porto che negli ultimi anni è stato sempre più sicuro. Sarà a Malta la location di un breve ritiro per la formazione paladina, attesa da un paio di giorni di allenamento, intervallati dall'amichevole di sabato pomeriggio contro la selezione dei migliori giocatori dell'MBA, la lega professionistica di basket della piccola isola che si affaccia sul Mediterraneo. Un modo scelto da coach di Carlo, in concerto con la società, per far sì che i giocatori rimasti in gruppo durante questo stop del campionato possano mantenere alta la tensione e la concentrazione, oltre a restare in allenamento in vista del prossimo impegno, quello di sabato 2 dicembre, in casa contro Trento. Un breve ritiro al quale non prenderanno parte i tre giocatori chiamati dalle rispettive nazionali, ovvero Iring, Kulboka e Wojciechowski, ma che vedrà tra i protagonisti Vojislav Stojanovic. Il serbo ha pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio, patito al termine della scorsa stagione, e da un paio di giorni è tornato ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni di squadra. Una risorsa fondamentale per un'orlandina che vuole riprendere a correre almeno fino alla fine del 2017, per ottenere un buon piazzamento a metà campionato, e che al rientro da Malta troverà anche Eric Maynor, il nuovo innesto che servirà a dare brio ed energia all'attacco biancazzurro. Il tutto in attesa di conoscere il destino di Dustin Hogg, ancora bloccato in Corea, e in attesa del giudizio definitivo da parte della FIBA.